Il Comando regionale della Guardia di Finanza della Puglia ha disposto nei giorni scorsi l'esecuzione di un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine ed altre correlate forme di illegalità. Il piano si colloca nell'ambito della missione istituzionale finalizzata alla tutela del bilancio pubblico mediante la salvaguardia degli interessi erariali connessi al monopolio fiscale sui giochi, concorsi, pronostici e scommesse, attuato attraverso un'estesa attività di vigilanza per la prevenzione, l'individuazione e il contrasto degli illeciti penali e amministrativi contemplati dalle norme di settore. Sono stati eseguiti 183 interventi e rilevate 45 irregolarità, il 25%, sequestrate complessivamente 36 apparecchiature elettroniche tra terminali informatici e personal computer, verbalizzati 70 soggetti di cui 37 denunciati all'autorità giudiziaria in quanto responsabili di violazioni costituenti reato. L'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza nello specifico settore si sostanzia in primo luogo in interventi ispettivi nei confronti dei soggetti abilitati alla raccolta delle giocate per accertare l'esatto versamento dell'imposta unica sui concorsi, pronostici, scommesse e delle altre forme di prelievo erariale vigenti, nonché l'osservanza delle norme amministrative di settore. Analoga attenzione è poi rivolta all'illecita raccolta delle scommesse e all'organizzazione abusiva di gare e di giochi da parte di operatori non autorizzati, i quali, oltre alla concorrenza sleale nei confronti delle attività regolarmente amministrate, determinano una contrazione dell'aggettito erariale derivante dal monopolio fiscale su giochi e scommesse. Dall'inizio dell'anno i dipendenti reparti operativi impiegati nel settore hanno effettuato 393 controlli su tutto il territorio regionale, rilevando irregolarità nel 33% dei casi, con la verbalizzazione di 287 soggetti, di cui 37 denunciati all'autorità giudiziaria e con 339 apparecchiature poste sotto sequestro.